Eccoci qui, Radio Hypnotic in macchina, Pasquale De Luca, Brillo Brillo Ho provato solo un bicchierino Guardatelo, giro di Pasquale Si vede il naso tutto rosso e ubriaco tosto Ciao amici, voglio bene, ti amo, I love you Mua, 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 mua Che cazzo stai facendo? Questa è diventata rosso, guardatelo Mi appoggio qua per piacere, mi appoggio qua Puoi raccontare, puoi raccontare ragazzo che cosa ti sei bevuto? Mi sono bevuto 80 centilitri di vino 80 perché era stato un bicchierino Un bicchierino solo 20 centilitri E in pratica un litro meno 20 fa 80 centilitri Perciò ho bevuto 80 centilitri di vino Vuoi capii? 80 centilitri 8 centilitri Se avessi una donna qui che ti vorresti fare? Una bella stompinata, ci vuole tutto dai Una volta ti ero un po' su, così poi Più, 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 più Ma sei un tipo più selvaggio a letto oppure sei uno soft? Dipende da una tipa, se una tipa non ti lo fa anche tirare su sei soft Se una tipa invece ti fa tirare fuori una besta tanta, allora lì vai giù di besta dai Senti un po', te la faresti mai una ragazza sopra all'albero appoggiata? Dov'è? Appoggiata all'albero Eh voglia, dai, meno così mezza natura Se vai in un bosco ti fai Più, 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 più La, 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 lala Bu, 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 bu Bu, 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 ba Bu, come, bu, bu Bu, come c'è una canzone di qualche anno fa Piiiiiii Domani mattina devi partire, no? Non pardo domani mattina, devi partire in giornata A che ora? Dove lo siamo per esempio Sono il pomeriggio però, sono il pomeriggio. Quindi puoi dormire fino alle 10.00 e domattina, domani un mal di testa avrai. Un mal di testa, dai. Per un bicchierino mi viene mal di testa, figa, dai. Poi, bicchierino. Ho bevuto un pochino di vino, dai. Un peu de vin, come dicono in francese, dai. Un bicchiere di vino ho bevuto, dai. Un grasso wine, come dicono gli inglesi. Un verduven. La merda? Un bicchiere di vino. Vino rosso, locale, underground, perciò... Vino di valore, di sostanza, figa. Guarda l'obiettivo. La luce rossa. La luce illuminata. Non toccare giusto, non toccare. Fatti guardare. Guardate gli occhi. Sono mezzi so chiusi da umbriaco. Non mi toccare l'obiettivo. E qui vedo... Questa luce rossa. No, è vero che non ho più la bocca, sembra di essere la dentista. Sì, infatti si è visto tutto. Ahahahah. 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 Ma io ho stato un po' scorretto. Che è successo? Nulla, nulla. Poi io ho stato scorretto, perché un bicchiere di vino potevi ciurartelo anche tu. Ma io il vino non lo bevo mai. Hai sprecato un bicchiere di vino rosso. Io non sono riuscito a bere tutto. Perciò ho perso praticamente. Allora, 20 centesimi di vino per 4 euro di spesa. Diciamo che almeno un 50 centesimi di spesa totale dato sprecato. Cazzo, 50 centesimi sono soldi eh. 50 centesimi sono vecchie mille lire. Sono vecchie mille lire, figa eh. Ci sono soldi, figa. Con 50 centesimi quante cose puoi fare? Puoi fare una chiamata? Puoi fare... No, non c'è un'altra no. Poi cosa puoi fare con 50 centesimi? Per offrire un cazzo con 50 centesimi. Però dai. Almeno un chicken se lo compri dai. Lo compri. Ciao bello. Ciao, ciao. I love you. I love you. Più, 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 più. Ciao, ciao, ciao. I love you. Ti amo. Irina, ti amo. Ti amo. Irina, ti amo. Più, 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 più. Bella piccellina. Bella piccellona. Bella piccellona. Ma senti un po', ma non c'è nessuno che ti piace? In che senso? Ragazze? Ah, le ragazze. Le ragazze, perché te la danno, sono sempre belle, dai. E se non te la danno? Eh, se non te la danno, sono troie, dai. Sono zoccole. Sono zuccolare. Sono zuccolare. Tu, diciamo, inserirsi la chiave, la porta si apre e pulirci la libidi. Senti un po', ma sinceramente. Sì. Ma che farai? Trovi una ragazza. Te la sposi o non te la sposi? Te la trombi prima o te la sposi? Beh, dipende. Sei tipo una tipa che ti fa venire, che ti fa farezzare così. Diciamo che... La bottaglina dai, prima o poi, dai. Dopo che la botticella l'hai provata, l'hai testata, puoi chi sposartela, dai. A me la cosi te la ci vuoi tutti i giorni. Te la ci vuoi dalla mattina da sé? È ovvio, cavolo. Quando così, c'è una mazzattante, fino alla mazzattanta, diciamo, e tu la spompina tutto, fino alla cappella, no, fino alla sacca, la sacca Bosch delle palle. Mi sembra per la lipidine, proprio. Come ti senti, Pasquale? Come mi sento? Mi sento un po'... Accelerati i movimenti? Un po' infuso mi sento, se sei sincero. Mi sento un po' infusarello. Ti rendi conto di quello che stai dicendo? Che sto dicendo? Non ti ricordi niente. Mi sento un po' fusarello, diciamo. Un po' underground, diciamo. Per vino locale, ma quanti gradi facessi di vino locale? Quattordici. A quattordici, dai. Per quattordici gradi cosa vuoi che siano, dai. Quattordici gradini. Ragazzi, quattordici gradi è ridotto così. Se beveva un vino da 22, che come sarebbe? Sì, però ha avuto anche un letro, fega. Non mi ha avuto un bicchieremo. Non mi ha avuto un po' infuso. Un po' mazza non mi ha avuto un po' infusarello. Ma che va a erfusarello?